se me da snina c'era un buraten e mi bacla era falegname un facetlo da un pezzo di legno e il pezzo di legno era magico che la mia mamma amo qui è difficile che il mio babbo era geppetto e faceva il falegname ed è lui che è mia fame o la mia mamma non è vero che non c'ho la mamma ce l'ho anch'io la mamma ciò che la mia mamma non era una mamma normale no la mia